Ebbene ragazzi, io sono Albo e siamo in questo video, forse il primo, di Brawl Stars, oggi comunque sto registrando questo video, è il primo gennaio 2020, quindi auguro a tutti ragazzi. Allora, io su questo account qua, perché ho risultato proprio il telefono, scusate un attimo, ok, e quindi ho ricominciato, anche se potevo con il Supercell D, rimetterlo, ho bisogno di cominciare. Vedete qua che, comunque ho 359, ho usato solo Shelly, perché avete, soltanto una volta mi sembra, sì, soltanto una volta Anita, ma sbagliato, volevo usare solo Shelly per vedere fin quanto si va, comunque sto preparando un unboxing, vuole arrivare tipo, o a 50 circa, e poi sto preparando un unboxing con voi. Di Brawler, questi qua, li sbloccati solo, anche, sembrano sbloccarli, però per sbloccare queste modalità, qua dovevo, qua, quindi ho detto Colt, Anita, e poi, dunque, Colt, Anita, poi, a Stecca era quella gratis che c'era per Natale, Bombardino, col Supercell D, e il primo, invece, ho appena una cassa gratuita che c'era nel negozio, e queste le apro. E io faccio una partita, in sopravvivenza, sì, conoscerli, e intanto, comunque, vi invito a iscrivervi al mio canale, a lasciarmi un like, e anche a quello di un amico, che si chiama Erasco, 3 Erasco, 06, che è un amico. Attento qua, due Bull, che si fanno fuori, beh, noi ne approfittiamo, uh, vediamo se ammazza, è scemo, sì, sono un po' scemo. Eh, no, vabbè, ok, ora, ammazziamo quello ulti, perfetto, intendo quella rosa, abbiamo quattro power-up, uh, scappa, scappa, no, robot del cavolo. Speriamo, sono ancora in sette, raga. Ok, 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 sì, fattualmente, però qua lo fermo così dopo, ecco, morta, perfetto, eh, sono scemo, però, è vero. Vabbè, vabbè, raga, eh, qua c'è qualcuno, abbiamo la ulti, quindi, chi è sto qua, ah, è rosa, vabbè, dai, lo uccidiamo. Dai, guardami, copri, bravo, copri, mi, però non ci copri più. Devo fare, devo tentare sta cosa, ah, vabbè, dai, solo mille. Non ci becca, c'è ancora un altro che non so chi sia, però, forza qua, sì, ecco, perfetto, che altre volte, c'è sto robot qua che mi rompe dall'inizio della partita. No, bastardo, non scappare, non scappare, non scappare, ah, mi sta accennando, vabbè, ma mi sta rotto la stessa cosa, veramente. Oh, basta. No, l'altro, dai, scappare, non lo prendiamo. Sì, ci godo. Ah, ah, la riprendeci, però. Tu qua, oh. Ci lascio lui, per tanto non massa. Ecco, vedete, ho fatto, bisogna la ulti per fatto. Prima propria vinta, buono, ragazzi, buono, buono, buono. E quindi andiamo a più dieci. Andiamo a, siamo al diato sedici. Buono. Eh, ok. Quindi fare un'altra ultima partita. Beh, se si scopo, va. Tanto da poco abbiamo un'altra cassa gigante. Devo andare a fare una, eh, footbrowser, ragazzi. Vediamo. Tanto metto in sta, 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 mappa qua che, cioè, è inverno e metto in estate con la pallavolo. Con la pallavolo come fosse estate. Sto qua ho fatto una cavolata Vabbè faccio No 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 Ho fatto con La starda Eh no sto qua il primo Eh no raga Ho fatto una cavolata Ho fatto una cavolata Scusate No come ho fatto Ho spaccato da ulti Scusate raga Ok Cavolata mia No sti non do zero No dai Ora Cosa scassi C'è No Non ci posso credere Non era l'ultima Facciamo un'altra Raga Non voglio concludere Con una pezza Il primo video di Brawl Stars Ti faccio qua Uccidiamo Non voglio spaccare l'ultima Vorrei fare una roba tipo Uh no Ok dai Prendila Non passarmela Eh guarda lì Dai uccidiamo un po' Ok Nessuno sta vicino Incredibile Due Due No come ho fatto Guarda l'ultima Guarda l'ultima No No Sto curato Cavolo Uh Dai 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 Sto qua non si legge il nome Non si capisce niente Mi senti Oh grande rosa Sto cura qua quanto rompe Quanto fa male quanto fa male No no Il primo dei coppili dei coppili la porta Non cazzo rosa Buttole via Buttole via Uh Vi ricordo Vi invito La gara Scrivi Ascela con like Eh no Come ho fatto Bah Non è vero C'era C'era quel barile lì Cosa No Ho Dessuto un po' Di barile Prendiamo La passo Dal primo Che non so Come si dica Il nome Dunque Gol No La presa rosa Cavolo Non mi ne ho accorto Oh no Ti prego Ti prego Ti prego Ok Come ho fatto C'ero io Ma c'ero io Mi l'ha tirato in faccia Non l'ha presa Vabbè Grazie Ma ero troppo forte Si va a sperimentare Raga È l'unica cosa Secondo partita Perfetto di fila Meno 8 coppe Non va bene Mi sto arrabbiando Mi sto veramente Non va arrabbiando Proviamo ora A fare Poi Poi l'evento L'ultima Che voglio recuperare Perché 23 diciamo C'erano 10 coppe E poi abbiamo 2 Guardiamo 2 coppe La cantora anche Se volete Non so Non c'è da neanche Cavolo Che ci vado Comunque scrivete Scrivete anche Nei commenti Che tipo Che genere di video Che volete Che vi porti Sul canale Scappiamo Ok No Ho detto Che non è troppo aggressivo Fa malissimo Sta roba Ma cavolo Ok Ma posso Possere morire No Ok Quanto power up Buono Ho 18 bit Non ci vado Non ci vado Lì Canca il potenziamento Faccio il robot Che faccio Nostare qualcuno Ok Ok Io E lui Perfetto Guarda Dopo Fa il figo L'ho ammazzato E muore così Bellissimo 10 10 coppe Ragazzi 10 coppe E quindi Vediamo 2 E andiamo a 34 Dopo Vediamo 34 Quelli E dunque Vediamo 24 Vediamo Sì 24 A chi in quanto Forse faccio un video E vabbè ragazzi Io non Non so Che c'è altro dire L'idea è che questo video Potrebbe finire qua Scusate E niente ragazzi C'è un prossimo video Adio